Benvenuti, io sono il Cencio e questo è l'episodio 0 dedicato a Resident Evil 2 Il remake per la precisione di Resident Evil 2 c'è veramente poco da dire questa volta Quindi sarà un'introduzione brevissima Andremo a giocare questo remake di uno dei capolavori della storia videoludica Uno dei giochi che come vi dicevo quando abbiamo giocato la remaster di Resident Evil 1 Ha fatto la storia del videogioco inventando un nuovo genere Perché il survival horror non è stato inventato da Resident Evil Ma è stato proprio Resident Evil 1 e 2 che l'hanno reso quello che è diventato negli albori nella gloria Adesso è veramente decaduto purtroppo come genere Ma sono stati proprio questi due giochi che abbiamo visto qui sul canale Di cui uno ne vedremo proprio adesso Che hanno dato la gloria a uno dei generi videoludici più famosi ed importanti degli anni 90 Oggi andremo a giocare questa remaster Remaster che sarà ovviamente in quanto remaster diversa dal Resident Evil 2 degli anni 90 Altrimenti sarebbe stato un remake, un rework, chiamatelo come volete Quindi assisteremo a dei cambiamenti nel gameplay, nel level design, negli enigmi Probabilmente anche negli nemici, scusate, nelle cutscene E forse anche minimamente, minimamente anche nella storia Questo non deve sorprendervi Mi raccomando Partite subito con il mindset giusto per godervi questo gioco Perché ho notato già quando ho portato la demo Che molte persone si sono inalberate istantaneamente Fraintendendo completamente il senso di questo remake O di un remake in generale Perché non è solo di questo remake Qui stiamo parlando in generale Un remake non è uguale al vecchio Resident Evil Non deve esserlo, in quanto remake non lo è Un remake va a cambiare una vecchia opera E la rifà in chiave moderna Per fare ciò vanno cambiate molte cose Che con il passare degli anni Per forza sono diventate obsolete Di cosa stiamo parlando? In questo caso stiamo parlando innanzitutto Del sistema di controlli Niente più inquadrature statiche Niente più fondali pre-renderizzati Niente più, grazie a Dio Controlli macchinosi come aveva Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 Cambiamento che venne effettuato con Resident Evil 4 Non in una maniera eccelsa però Di questo però ne parleremo poi Questo è scomparso Così come purtroppo Questo mi dispiace ragazzi È scomparsa l'animazione Il filmatino delle porte che si aprono Quando si va da una stanza all'altro Anche questo è scomparso Ma vedrete perché è scomparso E con cosa è stato introdotto? Perché come ho parlato nella serie di Resident Evil 1 Qui sul canale Che se non avete visto Vi consiglio di dare un'occhiata Se siete amanti della serie di Resident Evil Perché ho parlato molto approfonditamente Di determinate meccaniche I motivi dietro a determinate scelte Di questa serie Come ad esempio Il filmatino delle porte che si aprono E come dicevo lì Quel filmatino Era sì un modo Per intrattenere un attimo Lo spettatore Mentre che la console caricava Perché la Playstation Non ce la faceva A caricare scenari così grandi Senza dei loading continui In ogni stanza Allora si erano inventati questo pretesto Delle porte che si aprono E si chiudono Per generare ansia Nel mentre che il gioco caricava Era veramente interessante Molto molto bella come idea Tant'è che è stata una delle idee Più amate E più ricordate Dell'intera saga di Resident Evil Idea che come vi dicevo Purtroppo È scomparsa In questo Resident Evil 2 Scomparsa ovviamente anche Nei successivi Resident Evil Resident Evil 4 5 6 7 Questa roba purtroppo non c'è più In questo Resident Evil 2 però Vedremo che ci sarà un'altra meccanica Che servirà a dare ansia Al giocatore Anche senza Il filmatino Delle porte che si aprono E si chiudono Questo giusto per dirvi Di non Veramente Non partire con i pregiudizi Perché io l'ho visto già con la demo Tantissime persone Sono partite già con il pregiudizio Che il gioco faccia cagare Lo sapete che io sono una delle persone Più critiche Che ci siano Riguardante i videogiochi Proprio io Se posso criticare Critico sempre tutto Ovviamente critica costruttiva Non mi è mai piaciuto lamentarmi E non sono di certo Uno di quei youtuber Che sta a fare video Dicendo questo gioco è una merda Perché è una merda E stop Però ecco È importante criticare Ma la critica Richiede Un approccio Neutro Non si può partire Già con l'idea Che questo gioco Cioè Non puoi partire a dire Che questo gioco fa cagare Guardando una demo Ecco Ti puoi fare delle idee E puoi dire Questo non mi è piaciuto Questo no Ma partire proprio con Questo gioco è una merda Non ha atmosfera È tutto un troiaio Gli zombie sono brutti È tutto Cioè Questo è proprio Volersi lamentare per forza Cosa che vi Pregherei Di evitare a fare Perché Non serve a niente Se non A creare Un umore negativo In generale Cioè Non ha Non fate critica costruttiva In quella maniera Perché questo gioco Io l'ho già provato un po' Ho giocato la parte iniziale Fino ad arrivare Alla stazione di polizia E posso dirvi Che ha il suo perché Non è il vecchio Resident Evil 2 Ma ha il suo perché E è importante che non sia il vecchio Resident Evil 2 Attenzione Di questo poi ne parleremo meglio durante la serie Questo per darvi una mano A giudicare meglio il gioco Non cadere nella trappola del pregiudizio Che vi ingannerà E vi farà Tra virgolette Odiare Questo Resident Evil 2 remake Prima ancora di poterlo apprezzare E di poterlo anzi Giudicare Detto questo passiamo agli avvertimenti Prima di chiudere Perché non c'è davvero molto altro Che vi posso dire Resident Evil 2 Ha un alti Come un po' tutti i primi Resident Evil Ha un alto livello Altino Diciamo Di jumpscare Per chi è sensibile A questo genere Di 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 Bastardata Chiamiamola così Vi avverto prima Perché Ce ne sono un bel po' Ma Attenzione Ma Non sono jumpscare Perlomeno Nel vecchio Resident Evil Non lo erano In questo Non lo so se l'hanno fatto Ma non credo E spero di no Non sono particolarmente Bastardi Cioè non sono jumpscare Proprio di quelli che ti ammazzano il cuore No? Di quelli che Salti 40 battiti Ci sono i jumpscare Ma sono jumpscare Questo Così A saperlo Uno è preparato E si spaventa Di meno Però ci sono Altra cosa Che devo avvertirvi Che potrebbe dare fastidio a qualcuno È L'alto Barra Altissimo Livello Di violenza Già era molto violento Il Resident Evil 2 Degli anni 90 Con quella graficaccia lì Tre poligoni Nei modelli E texture 16x16 Oggi Potete immaginarvi Il livello di violenza Che può raggiungere questo gioco Il gore È veramente elevato Già da quanto abbiamo visto Nella demo Ci sono state un paio di scene Mica da ridere Nel senso A me non dà noia il gore Dà poca noia Quello reale Figuriamoci In un videogioco Però Però Dato che Molte persone Possono avere Lo stomacchino debole È bene dirlo Che vedrete Delle scene Per niente carine In questo Resident Evil Detto questo Non c'è molto altro Che devo dirvi Che devo Che devo avvertirvi Io vi ho lasciato qua Nell'introduzione Il menu è semplicissimo Proprio minimalista Sapete quanto io apprezzo Il menu Anche quello delle opzioni Guardate che roba Semplicissimo Con questo suonino Veramente ASMR Proprio Che ti ci addormenti La notte Senti qua Bellissimo Meraviglioso Io ci ho messo a posto tutto Non vi preoccupate Impostazioni eccetera eccetera E andiamo A selezionare La nostra storia Che poi vedremo Nell'episodio 1 Dove inizieremo Con il gameplay Qui abbiamo un continua Perché ho testato FPS Impostazioni grafiche Eccetera eccetera Come vi ho detto Solo nel primo pezzettino Del gioco Inizieremo una nuova partita E il nostro La nostra giocata Sarà con Leon S. Kennedy Potremo come nell'originale Giocare anche con Claire Cosa che se non hanno cambiato E non credo che lo abbiano fatto Sarà necessaria Per completare il gioco Ovvero Finendo il gioco con Leon Non sarà La vera fine del gioco Ma dovremo giocare Anche con Claire E viceversa Perché una delle cose bellissime Del vecchio Resident Evil Era proprio che Era un po' Quattro giochi in uno Cioè Tu avevi La storia di Leon E la storia di Claire Quindi uno dice No sono due giochi in uno E no Perché quando tu finivi La storia di Leon Alla fine del gioco Ripartivi a ritroso Con Claire E ti rifacevi Tutto un altro gioco Completamente diverso Diverso anche Dal fare la storia di Claire Perché trovavi oggetti diversi Potevi accedere ad aree diverse In base a quello Che si era fatto con Leon E viceversa Giocando poi con Claire Si finiva il gioco con Claire E giunti alla fine Si tornava indietro con Leon Cioè potevi fare questa roba Ovviamente era un quattro giochi in uno Era meravigliosa questa E Serviva per poter esplorare tutto Prendere tutti gli oggetti Riuscire a completare Realmente al 100% il gioco Non so se questo Noi lo faremo in serie Non lo so ancora Vedremo Vedremo Quello che è certo Che Inizieremo con Leon Come è lo standard E arriviamo qua Alla nota dolente La difficoltà di gioco Che qui chiama modalità di gioco Abbiamo assistita standard estrema Assistita perché si avvicina La prima volta alla serie Non credo faccia il caso nostro Mira assistita Recupero automatico della salute Nemici più deboli La morte interiore No grazie Anche perché questa volta ho un mouse Non le levette Quindi posso sparare anche io Grazie Abbiamo la difficoltà standard Livello di difficoltà normale E la estrema Per i veri fan della serie Per salvare necessario Un nastro d'inchiostro Salvataggi automatici disattivati In nemici più forti Ora Essendo che io sto portando Questa serie su youtube La scelta più saggia Come vi ho già spiegato altre volte È non pompare troppo la difficoltà Quando si porta un video su youtube E andare di normal Perché? Perché morire tante volte Rallenta la produzione Dei video Rimanere intoppati Negli enigmi Rimanere senza munizioni Rallenta tantissimo La L'uscita dei video Ma qui ci hanno sfidato Guardate qua Questa è proprio una sfida Per i veri fan della serie Proprio lui sotto Qui Sti bastardi della Capcom Sotto intendono Che se tu non giochi In una modalità estrema Non sei un vero fan Di Resident Evil E dato che dicono così Allora noi gli dimostreremo Che siamo veri fan Di Resident Evil Perché se hanno detto così Vuol dire che è così Che va giocato Resident Evil Per i veri fan della serie Non è un modo per dire Per i pro No no È proprio per quelli Che hanno apprezzato Il survival horror Questa modalità qua A quanto intuisco io Renderà il gioco Un vero survival horror E di fatti guardate Per salvare è necessario Un nastro di inchiostro Salvataggi automatici Disattivati Nemici più forti Ora io Già sono preoccupato Nei boss Come faremo a fare i boss Non lo so Sarà da ridere Fare i boss Alla difficoltà estrema Ma sti cazzi Non abbiamo paura Noi giocheremo Alla modalità estrema Ora io quando clicco Sì Qui inizieremo subito Con il gameplay E con la storia Io ovviamente Cliccherò sì Noi ci giocheremo Questo Resident Evil 2 Proprio senza paura Testa alta E petto in fuori Modalità estrema Morirò tantissimo Rosicherò tantissimo E vi giuro Non vedo L'ora Alla prossima Alla prossima